amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino continuiamo ad occuparci di serie 1 maschile per farlo torniamo nuovamente in casa dell'astranuto roma dopo un po di tempo e per questo è tornato a trovarci l'universale della formazione capitolina giobbatta valle ciao giobbatta bentornato è un piacere riaverti in nostra compagnia ciao andrea grazie di nuovo per l'invito e allora questa volta non partiamo dall'ultima uscita perché risale a quasi un mese fa al 30 marzo poi turno di pausa in campionato finaletti di coppa italia quindi tanto tempo per lavorare però ne parliamo tra un po vado subito sul personale se è stato assente per oltre un mese per un serio problema fisico come stai ora e quando potremmo rivederti in acqua ora tutto bene è stato un mese difficile e ora piano piano sto riprendendo sono rientrato giusto una settimana fa e spero di rientrare al più presto e in ottica l'obiettivo sarebbe già salvarci questo sabato ma se non dovesse essere così e rientrare per il play out e dare una mano dare support alla squadra una pedina in più preziosa a disposizione del mister maurizio maurizio mirarchi che sicuramente in questo lungo periodo senza impegni ufficiali tre settimane via avrà avrà messo il gruppo sotto le fatiche per correggere gli errori per perfezionare gli automatismi e magari mettere anche nelle gambe quel po di benzina per lo sprint finale che tipo di lavoro ha svolto il gruppo in questo periodo senza impegni ufficiali eh rientrando rientrando una settimana questa settimana ho visto poco il lavoro dei dei miei compagni ma conoscendo maurizio penso avrà focalizzato il suo lavoro su su un nuoto su non perdere la condizione fisica nuotare nuotare e ovviamente eh sugli automatismi anche delle difese di attacco quindi non non perdere tutto perché è stata una pausa lunga quindi eh può anche capitare che ci si ci si dimentichi un po' come si giochi ma no no penso abbiano lavorato duro sono renduto questa settimana ho visto che erano concentrati tutti e lavoravano solo quindi penso li abbiano preparati al meglio sei rientrato da poco però lo hai detto in maniera molto puntuale conosci il lavoro del tuo allenatore in che modo sono state analizzate le ultime uscite quanto rammarico c'è ancora per la sconfitta nel finale del derby contro la Roma Visnova? Eh molta devo dire tendeva molta perché vedendola la casa ancora di più perché mi sono reso conto che eravamo lì lì a un passo quasi da fare un'impresa per per poi affrontare il saranno questo sabato eravamo potevamo arrivare a questa partita di sabato più tranquilli non è successo e niente a me è stato mi è stato veramente è stato veramente un rammarico vederla da casa perché proprio ho provato una sofferenza una sofferenza tale da non poter giocare non dare supporto ai miei compagni che è indiscrivibile quindi mi è dispiaciuto molto non essere lì a giocare con una piscina piena e che ci che si che ci sosteneva e niente mi dispiace molto ma la palla noto è anche questa e niente ora pensiamo a sabato concentrati poi dai risultati vedremo si tireranno le somme assolutamente sarà un ultimo turno di round retrocessione decisamente rovente sono tante le possibilità aperte e tanti gli incroci che determineranno poi la formazione che otterrà la salvezza diretta e le quattro che si affronteranno nei play out con la relativa composizione della griglia degli spareggi salvezza te la lancio quasi a modo di provocazione credete ancora nella salvezza diretta noi ci crediamo sempre ci abbiamo creduto fin da inizio stagione perché ci siamo resi conti che abbiamo proposto un'idea di gioco che era oltre le aspettative che ci aspettavamo e che ci aspettavano tutti quindi noi pensiamo di meritarci questa questa salvezza ovviamente abbiamo fatto qualche passo falso in questo round retrocessione ma non ci non ci deve scoraggiare non ci ha scoraggiato e siamo pronti a dare il massimo in questa ultima partita e il risultato finale vedremo vedremo cosa ci capiterà tireremo le somme come detto te a fine partita e se dovesse succedere il peggio ci sarà la lotteria dei play out alla quale come giustamente sottolinei tu vi farete trovare pronti però prima c'è l'ultima tappa della seconda fase di campionato settima di round retrocessione trasferta alla vitale contro la check up in un campo che trascina spesso i suoi giocatori a risultati anche contro pronostico che partita ci aspettiamo è una battaglia perché l'ultima noi ci giochiamo tutto loro un po' meno però si giocano un buon posizionamento per i play out quindi poi essendo in casa non vogliono deludere la gente che va a vedere quindi daranno il cento per cento e noi dovremmo stare come ogni partita di questa stagione concentrati determinati fin da subito fin dal primo tempo per per portarci alla casa la chiave secondo me per per riuscire a vincere a a strappare i tre punti dal salerno sarà ovviamente sembra un po' banale però è la difesa perché da lì che poi parte l'attacco e arrivano poi i gol va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio giobatta valle per essere intervenuto do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao giobatta grazie mille ciao andrea